Credo che l'Italia abbia il margine perché l'Europa deve soprattutto crescere, deve crescere insieme e si devono evitare le diseguaglianze che l'hanno caratterizzata negli anni scorsi. Ci va coraggio, ci va sicuramente maggiore integrazione europea. Bella la metafora con l'invito di Bebevio, persona straordinaria. Io ho ricordato questo, l'Europa deve avere almeno la metà del coraggio del carattere di questa straordinaria campionessa.